Era un amico, prima ancora che un allenatore o un professionista. Si era cimentato anche nell'attività giornalistica, svolta sempre con passione. Sono passati 14 anni dalla scomparsa di Gianluca Gallorini e, sembra ieri, decise di togliersi la vita di notte nella sua abitazione con fredda lucidità. Da qualche tempo non stava più bene e la depressione andava e veniva con sempre maggiore frequenza. Questi furono i fatti. Oggi viene spontaneo pensare a come Gianluca avrebbe commentato quello che è successo nel mondo del calcio, ai suoi cambiamenti, che lui viveva sempre con attenzione ma restando legato al suo modo di intenderlo. E chissà che cosa avrebbe pensato di tutte le vicende accadute in questi anni che hanno cambiato gli equilibri nei quali viviamo. Gianluca oggi avrebbe avuto 60 anni. I suoi figli, allora ragazzi, sono uomini. Avrebbe dato loro consigli, suggerimenti, ma sempre secondo quei principi ai quali si sentiva legato, come persona e come uomo di sport. Vogliamo ricordarlo così, come un ragazzo buono e che nella sua vita, oltre a farsi conoscere, si era fatto benvolere da tutti.